la mia vita spaziale oggi una nuova puntata dedicata a uno strumento che tutti usiamo ogni giorno ma vorrei proporvi un'app veramente utile che io uso da tanto tempo parliamo cioè di mail ma la vediamo subito dopo la sigla la mia vita spaziale come il digital può trasformare meglio la tua vita il tuo lavoro idee strategie consigli a cura di andrea brugnoli può sembrare strano che all'inizio di un nuovo anno diciamo di lavoro finite le ferie parliamo di uno strumento che ormai ha decine e decine di anni risale agli anni 70 e la cara e vecchia mail che ancora oggi uno strumento fondamentale per fare marketing per vendere per i propri affari per il proprio lavoro dunque la mail è essenziale io conosco oggi moltissime persone che per esempio usano gmail direttamente da computer io sbarro sempre gli occhi quando vedo questo perché certo è utilissimo però devi sempre collegarti sia dal tuo iphone sia dal tuo computer di casa dal tuo pc devi avere la linea inattiva insomma e poi riempiono la casella di di posta in arrivo all'inverosimile insomma gente che poi si si incasina a lavorare con la mail rimangono un po inguaiati dal numero delle mail dalla confusione che regna all'interno di quel sistema che è un po tipico di google a dire il vero da anni io suggerisco che invece di utilizzare la mail online con i vari servizi può essere anche tiscali può essere qualsiasi altra cosa di scaricarsi un bel programma di client cos'è un client è un programmino che sta sul tuo computer al quale puoi accedere molto tranquillamente in ogni momento della tua giornata e lui che cosa fa sincronizza la casella di posta in arrivo che trova nel cloud della tua mail preferita o di tutte le mail che vuoi di tutti i provider che tu vuoi nei quali sei iscritto sincronizza quella casella con una casella di posta che sta direttamente sotto computer il vantaggio è che tu puoi mettere molto più serenamente in ordine le cose non curandoti della velocità della linea dei problemi di sincronizzazione perché questo programma va anche a linea spenta naturalmente quando il computer è connesso si spera sempre lui si sincronizza però con un programma client tu puoi fare un sacco di cose che questi programmi invece online non fanno mamma apple ha proposto sempre nei suoi computer mail si chiama così il programma di default per gestire ma io è da anni che uso un programma che adesso diventato gratuito nella forma base e a pagamento ma con una piccola quota annuale nella sua forma però che si chiama air mail te ne parlo perché questo programma è ormai diventato il mio compagno di viaggio da anni quindi ho un'esperienza di anni su questo programma e devo dire che è il migliore attualmente in assoluto spero che prima o poi apple possa imparare anche da questo programma a fare un programma un po più completo che cosa offre air mail di più di una mail normale moltissime funzioni innanzitutto ha una grafica molto bella molto pulita e molto chiara tu puoi naturalmente creare tutte le tue cartelline dove archiviare le mail e anzi colgo l'occasione per suggerire a tutti che bisognerebbe lasciare la posta in arrivo la casella di posta in arrivo sempre vuota ogni giorno e processare ogni mail in modo tale che ogni giorno quello che deve essere eliminato va eliminato quello che deve essere archiviato va nella sua cartellina naturalmente ti offre la possibilità di fare le cartelle smart con mille funzionalità ma ci sono due tre funzioni che per me sono veramente essenziali la prima è quella di posporre un messaggio cosa fa air mail se tu pensi che quel particolare messaggio sarà da te processato sarà per te interessante che ne so tra due giorni tu con il tasto destro del mouse sul messaggio dici posponi lui ti chiede quando lo vuoi posporre più tardi oggi questa sera domani fin settimana metterlo da parte la prossima settimana o scegliere una data e un'ora specifica lui cosa fa lo mette da parte lo nasconde come dire e quel giorno a quell'ora è come se ti arrivasse in quel momento e quindi così non ti intasa la casella di posta e ti giunge a te l'esatto momento in cui tu ne hai bisogno un'altra funzione molto molto utile quello di invia più tardi se tu vuoi puoi comporre una tua mail e dirgli di mandarla domani mattina in modo tale che sembra che tu magari sei al lavoro nell'orario giusto adesso con questi tempi di lavoro a distanza il rischio di rispondere a me di lavoro di notte e allora uno dall'altra parte pensa che tu lavori anche di notte un po' è vero però forse è meglio non far sapere certe cose quindi l'invia più tardi è molto utile una terza funzionalità che io ritengo essenziale è un piccolo tastino che si trova sopra l'elenco di tutte le mail che hai nella tua casella che ha una forma come di bersaglio con quella mail lui praticamente la mail che tu stai selezionando in quel momento ha un mittente e lui col bersaglio ti va a far vedere solo tutte le mail che tu hai esattamente di quel mittente e questo è molto comodo per cercare in due secondi tutte le mail che riguardano per esempio un cliente una persona che vuole ultimissima funzione tutte le impostazioni di questo programma tutte le regole tutte le immagini di icone che tu puoi caricare tutte le personalizzazioni che tu hai su questo programma vengono registrate su iCloud o su qualsiasi altro servizio di cloud computer e quindi tu quando installi questo airmail su un altro mac oppure sul tuo ipad oppure sul tuo iphone su tutti i dispositivi che hai lui in due secondi ti sincronizza senza bisogno di rimettere dentro password username account di mail eccetera eccetera quindi è molto comodo perché con un computer nuovo o semplicemente per installare da un'altra parte il client tu basta che lo carichi metti la tua user name password di default del sistema e lui ti carica automaticamente tutta la tua posta insomma veramente veramente comodo siccome è uno strumento molto importante la mail per il lavoro suggerisco ed è molto spaziale usare airmail trovi il link nelle note dell'episodio eccoci qua la trasmissione di questo podcast volge al termine io sono andrea brugnoli e questo podcast è dedicato proprio a darti qualche piccola idea ne ho molte ancora nel mio elenco io uso un file di un programma bellissimo di cui ho parlato si chiama mind note per segnarmi tutte le puntate che ho pubblicato ma sono più di 260 sono veramente tantissime quindi puoi trovare tra tutte anche le puntate passate se vai nelle note dell'episodio trovi tutti i link puoi trovare l'argomento che più ti interessa il tool l'idea lo strumento l'app che può fare la differenza sia per il tuo lavoro sia per il tuo tempo libero sia per la tua vita personale perché lo dico sempre noi abbiamo in mano un dispositivo che è veramente potentissimo ha l'intelligenza artificiale fa un sacco di cose ma forse lo usiamo al 2% e questo podcast è nato proprio per questo per rendere la tua vita sempre di più spaziale la mia vita spaziale come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro a cura di andrea brugnoli